Ma senti Dio, dico io, perché devono venire in Svizzera a romper ricchezza a me? I miei piedi erano perfetti. Aspettavo 3-4 mesi, diventavo ricco sfondento alla borsa, con la testa che mi ritrovo, andavo giù al paese e facevo la mia bella figura. No! Deve venire fino in Svizzera a rompere le scatole a me!